Le migliori skill di FC24 facili e che puoi fare anche se non sai skillare assolutamente Benvenuti a tutti, io sono il Santu e in questo nuovo video appunto andremo a vedere quali sono le migliori skill facilissime che puoi fare veramente in un batter d'occhio semplicemente allenando di 2-3 minuti qua nell'arena Allora, come vedete lì in fondo vi ho messo il pad a sinistra e a destra sia di Play che di Xbox Così entrambi potete vedere quali sono i tasti da premere perché come potete ben vedere vi si illuminano i tasti anche per entrambi i controller Intanto però ti ricordo come sempre di lasciare un like perché per noi è importantissimo iscriverti e attivare le notifiche per non perderti altri video come questo durante tutto l'anno Voglio iniziare a dirti che quest'anno è abbastanza semplice skillare, è una cosa molto utile almeno adesso nelle prime fasi di gioco Perché nel momento in cui vediamo le difese molto chiuse o comunque quegli avversari che difendono bene Skillare è uno dei presupposti per entrare all'interno di questo tipo di difese O semplicemente per creare nuovi scenari che magari prima non avevate mai visto Hanno introdotto una serie di skill quest'anno molto utili, molto semplici e che secondo me sono molto efficaci Inizierei però proprio con la cosa più standard di questo mondo che è la suola È la skill più basica e più utile di tutte quante e che ti serve per rallentare da quando sei in corsa O semplicemente in camminata per spostare il pallone sul piede buono del giocatore O semplicemente per cambiare direzione del corpo senza dover fare quelle animazioni macchinose Come si fa mentre stai camminando? Analogico destro verso una direzione Verso l'alto o verso il basso, oppure se stai verso sinistra o verso destra Molto semplice Quando è utile, quando per esempio sei sulla fascia, stai correndo, puoi rallentare Immediatamente fai l'analogico verso l'alto o verso il basso e cambi subito direzione Oppure mentre stai utilizzando il nuovo dribbling, la nuova velocità controllata Mentre stai così lasci l'analogico e usi il ball roll, la suola Partendo da questo presupposto andiamo a vedere le successive e ti ricordo che tutte queste skill che noi andremo a vedere Si possono effettuare bene o male con tutti i giocatori, con tutte le skill Ovviamente più alto è il numero di stelle skill, maggiore sarà l'efficacia e la velocità con cui vengono effettuate In più aggiungo che quest'anno hanno inserito i nuovi playstyle delle skill che sono il trickster Quello là con l'emote del clown e quello di controllo palla, quelli della velocità nello stretto Quindi più playstyle hanno questi giocatori, oltre alle varie stats di agilità, dribbling, controllo palla Maggiore sarà l'efficacia di queste skill e soprattutto maggiore sarà la velocità di esecuzione all'interno del gioco Partiamo subito dalla prima skill che hanno introdotto quest'anno O meglio, è stata una rivisitazione di un'animazione della skill che c'era fino all'anno scorso Ovvero il tunnel direzionato, che si è sempre fatta con L1, R1 più analogico destro Così, ma è stata appunto cambiata di animazione Quindi si preme, tieni premuto L1, tieni premuto R1 e fai con l'analogico destro Un tap nella direzione in cui vuoi uscire, in cui vuoi direzionarti dopo che hai fatto la skill Adesso è utilissima, per esempio, quando sei al limite dell'area di rigore Vuoi far credere all'avversario che stai tornando indietro Ma invece andiamo avanti verso la porta Quindi immagina che davanti a me ho il difensore centrale Io faccio L1, R1 più analogico destro in avanti Lui mi fa quel tocchettino per tornare indietro e vado in avanti Altra situazione in cui è assolutamente utile Sempre fuori ara di rigore, ma in generale In qualsiasi zona del campo tu voglia effettuarla Ma dove vuoi cambiare direzione in maniera molto repentina Facendo credere all'avversario che stai andando in una direzione Ma invece esci dall'altra Fai L1, R1 e poi, ad esempio, se io sto guardando verso il basso Come in questo caso, e voglio andare verso il portiere Faccio L1, R1 analogico destro verso il portiere appunto E hai visto che animazione mi ha fatto? Mi ha fatto un'animazione dove il pallone è tornato indietro Però poi io esco dall'altro lato È velocissima, è molto simile alla vecchia Meghidi Quella là che si fa analogico destro verso il basso E poi verso la direzione in cui voglio uscire Però mi permette di prendere in giro un po' l'avversario Poi, in base a quante skill c'hanno i vari giocatori Farà un'animazione diversa 3, 4, 5 skill Altra skill molto simile invece Questa è stata aggiunta quest'anno È il Drag Tunnel Back Non ci interessa del nome Si fa tenendo premuto L2 E poi analogico destro Tenendolo premuto verso le spalle del giocatore Nella direzione in cui noi siamo, ok? Quindi se siamo leggermente spostati verso il basso L'analogico dovrà essere spostato leggermente verso l'alto Verso le spalle del giocatore Anche qui è utilissima nel momento in cui io voglio tornare indietro Facendo finta di andare verso avanti, ok? Quindi prendendo in giro un po' l'avversario La trovo molto utile quando sei praticamente attaccato all'avversario Quando c'hai il difensore esattamente dietro le spalle Perché se la fai quando c'hai il difensore ha anche un po' di spazio Molto probabilmente il difensore te la prende Quindi il giocatore deve essere praticamente attaccato alle spalle del tuo portatore palla E la trovo molto utile soprattutto quando sei in una fase di fascia alta o fascia bassa Qui nelle zone laterali del campo E c'hai il terzino che ti sta pressando sull'esterno Solitamente gli esterni sono quelli più agili, più veloci Tu ti trovi qua a rivederci e poi spari un bel cross al centro per la tua punta Oppure continui la tua azione Nuova skill inserita quest'anno invece è il drag Tu esci da qualche parte, noi la chiameremo assolutamente così E' molto utile quando ti stanno pressando in due E ti vengono entrambi da una stessa direzione Quindi facciamo finta che io ho gli avversari che mi stanno arrivando dalla difesa verso di me Io faccio questa skill che si fa tenendo premuto sempre il nostro L1 E poi con l'analogico destro clicco nella direzione in cui sto guardando E nella direzione in cui voglio andare Ok quindi se io voglio andare verso l'alto E sto camminando verso il portiere Tengo premuto L1 e vado avanti e su Voglio ricambiarla e voglio andare verso destra, verso il portiere Sto guardando però verso l'alto Quindi faccio Tengo premuto L1 Analogico destro verso l'alto E poi analogico destro verso il portiere Serve appunto per uscire da situazioni di pressing molto scomode E per cambiare direzione in maniera quasi repentina Questa anche è molto utile in fascia Perché ti stanno pressando magari il terzino e il difensore centrale Da una stessa direzione Io voglio rientrare subito nel centro del campo Per poi passare il pallone verso un mio compagno Che sta arrivando a rimorchio dal centro campo Oppure semplicemente per prepararmi a un tiro a giro Immaginate che io sono in questa zona del campo Faccio la mia skill Arrivo qui e poi preparo il tiro a giro sul secondo valo Molto simile a come si fa la finta Hohe Questa è copyright assolutamente Mio Già un paio di anni fa era utile Vi ho fatto anche qui il video un paio di anni fa Per questa skill Tieni premuto sempre L1 E poi analogico destro Un piccolo tocchettino Verso la direzione opposta a cui vogliamo andare E poi un piccolo tocchettino Verso la direzione in cui vogliamo uscire Questa è di una semplicità estrema Ma che ti permette di cambiare direzione In maniera repentina E puoi farla veramente in tutte le zone del campo E ti serve per prepararti Ad esempio io la utilizzo tantissimo Al prepararti al tiro di esterno dentro l'aria Sto guardando così Faccio questo E poi tiro di esterno Che adesso sono arrivato troppo sotto al portiere E vabbè Oppure per esempio anche qui Se mi voglio preparare al tiro a giro Tacco tacco Tiro a giro mi preparo già per O tiro a giro di insignia Andiamo avanti con un'altra skill Semplicissima Che è il doppio passo Il doppio passo dovete farlo Più o meno in questa zona di campo Sia qui che dall'altro lato In maniera speculare Per passare in mezzo al terzino E al difensore centrale O se vi trovate qui al centro dell'area di rigore In mezzo ai due difensori centrali Bene o male la potete utilizzare In quasi tutte le zone del campo Non la fate con i cdc Non la fate con i difensori centrali Non la fate con i terzini Cercate di farla sempre con giocatori tecnici E con buona velocità Perché vi permette di sprint boostarvi Che cos'è lo sprint boost? È un modo di accelerare in maniera repentina Poi dopo aver fatto lo sprint boost Ci stanno un miliardo di cose che si possono fare Ma quelle magari le andiamo a vedere Con dei tutorial specifici più in là Nell'anno concentriamoci solo su come si fa il doppio passo Immaginate che il vostro analogico destro Sia un grosso orologio con tutti i numeretti Per fare il doppio passo verso destra Bisogna muovere l'analogico in maniera dolce In maniera lenta Dalle ore 3 alle ore 6 Mentre camminiamo dalle ore 3 alle ore 6 Si fa questo Da sinistra verso destra Mentre da destra verso sinistra È dalle 9 alle 12 Sempre in maniera molto dolce Perché in maniera molto dolce? Perché se fate il movimento molto più rapido Andrete a sbagliare l'animazione E vi farà o il velo O l'elastico O il reverse elastico E queste due skill sono quelle che andiamo a vedere proprio adesso Queste sono skill che puoi utilizzare Solo ed esclusivamente con giocatori Che hanno 5 mosse abilità 5 stelle skill Ma che sono di una semplicità e di un'efficacia clamorose E ti servono per cambiare direzione in maniera repentina Ad esempio se io Vedi mi trovo leggermente in diagonale Ma voglio passare verso il portiere Io cambio la mia direzione e mi trovo già dritto Per poi prepararmi al tiro Questa è già una meccanica un po' più avanzata Ma una volta che ti sei allenato 5 minuti di orologio 5 minuti di orologio L'hai imparata Come si fa? Anche qui dobbiamo considerare il nostro analogico come un orologio E per l'elastico da sinistra verso destra Bisogna seguire proprio il movimento del giocatore Dalle 3 alle 9 del pomeriggio Per fare l'elastico Dalle 3 alle 9 del pomeriggio Per l'elastico Da sinistra verso destra L'elastico da destra verso sinistra Si fa dalle 12 alle 6 Mentre parliamo del reverse elastico Che è lo stesso identico Uguale spiccicato principio Semplicemente inverso Appunto reverse elastico Se io sto attaccando da sinistra verso destra Per fare il reverse elastico Devo andare da mezzogiorno alle 6 Invece reverse elastico Da destra verso sinistra Dalle 9 alle 3 Molto semplice Vi ricordo solo una cosa Che dall'anno scorso Se il giocatore è mancino L'animazione ve la fa Con il piede sinistro Quindi troverete delle leggere differenze Ma secondo me sono un vantaggio Perché voi le vedete poco spesso Ma le vede poco spesso Fuori l'avversario E quindi potete Prenderlo un attimo alla sprovvista È una cosa che vi capiterà poco spesso Dipenderà dai giocatori Che usciranno quest'anno Considerando che Marez Di Maria Sono andati tutti in campionati esteri O comunque Non sono proprio molto utilizzabili Magari durante l'anno Metteranno dei giocatori Con il piede cambiato O semplicemente altri giocatori E vedremo Vedremo queste animazioni Io ti ringrazio Per aver visto il video Fino a qui Se hai dubbi, domande, perplessità Scrivimi assolutamente Nei commenti Io sono sempre a tua disposizione Su IG E sulla piattaforma Viola Tutti i giorni Dalle 12.30 E alle 18.30 Ti ricordo come sempre Di lasciare un like Iscriverti al canale E attivare le notifiche Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti